Buonasera dalla redazione di Vera TV, bentrovati, nuova edizione del Tg Abruzzo. Siamo all'Aquila, dopo l'intervento Matteo Messina Denaro si trova ora in terapia intensiva in ospedale ma è vigile. Lo afferma il garante dei detenuti Gianmarco Cifaldi che esprime anche la sua visione sulla richiesta di scarcerazione del boss legata a motivi di salute incompatibili con il regime di 41 bis. Il servizio di Rossella Luciani. Nega di aver fatto parte di Cosa Nostra, respinge le accuse di stragi e omicidi, specie quello del piccolo Giuseppe Di Matteo, il figlio del pentito rapito, strangolato e sciolto nell'acido dopo 25 mesi di prigionia. Smentisce anche di aver mai trafficato droga e dunque esclude di pentirsi. Parola di Matteo Messina Denaro, il quale ammette che la sua latitanza è terminata solo per colpa della malattia. In 70 pagine di interrogatorio, reso al procuratore di Palermo Maurizio De Lucia e all'aggiunto Paolo Guido, il boss mafioso non concede nulla ai magistrati. Un verbale depositato nel giorno stesso in cui le condizioni di salute di Messina Denaro, impeggioramento, hanno reso necessario un ricovero all'ospedale dell'Aquila al reparto di chirurgia. Dopo l'intervento effettuato martedì pomeriggio, Matteo Messina Denaro si è risvegliato dall'operazione, che è andata molto bene, è vigile e attivo. È in terapia intensiva solo per prassi dopo interventi del genere. Lo dice il garante dei detenuti in Abruzzo, Gianmarco Cifaldi, che aggiunge L'adegenza in ospedale dipende dalla combinazione tra il consulto sanitario e gli approfondimenti del DAP, che deve valutare le azioni per garantire la sicurezza interna ed esterna. E tutte le azioni, afferma ancora Cifaldi, vanno a garantire i diritti costituzionali sia per il boss, sia per le persone libere. Quanto alla richiesta di scarcerazione annunciata dai difensori di Messina Denaro in quanto il regime del 41bis sarebbe incompatibile con le condizioni di salute del loro assistito, Cifaldi sottolinea Garantiamo il diritto alla salute con personale medico qualificato e tutte le agenzie dello Stato stanno operando nel rispetto del dettato costituzionale, me compreso. E proprio su questo tema il garante dei detenuti si era già espresso così nel giorno in cui, per l'ex latitante, si erano aperte le porte del carcere abruzzese. Un carcere che ha tutte le condizioni per essere di gestione di un detenuto particolare, un detenuto come tutti gli altri, in particolare con una grave patologia, un tumore al colon. Il carcere dell'Aquila di Costarelle ha subito e prontamente attivato tutte le necessarie attenzioni per seguire il detenuto. Il carcere dell'Aquila ha una sezione con annesso area infermieristica perché per i nuovi provvedimenti dell'accedo ogni istituto di 41 bis è stato attivato delle procedure, procedure atte a garantire il diritto alla salute come normato dalla Costituzione, dall'articolo 27. Ed ora siamo a Valle Castellana, si moltiplicano un po' in tutta Italia gli episodi di violenza nei confronti dei medici, specie nei pronto soccorso. Questa volta a farne le spese è stata una guardia medica che dopo aver sorpreso dei giovani urinare davanti al suo ambulatorio è stato brutalmente picchiato. Ascoltiamo allora il servizio di Jessica Balestra. Picchiato brutalmente per aver rimproverato un gruppo di giovani sorpresi ad urinare davanti al suo ambulatorio medico. Bruta disavventura per il dottore Maurizio Doroni, ascolano di 65 anni in servizio alla guardia medica di Valle Castellana in provincia di Teramo. Identificato e denunciato dai carabinieri l'aggressore, un giovane di 20 anni. Secondo la ricostruzione dei militari tutto sarebbe nato dopo che il medico aveva redarguito il giovane e i tre amici scoperti ad urinare all'esterno dell'ambulatorio dove c'erano diversi pazienti malati in visita. Frasi non gradite da uno di loro che poco dopo ha affrontato Doroni colpendolo ripetutamente a calcio e pugni con una violenza tale da provocargli la frattura dell'orbita, dell'occhio sinistro, del setto nasale, di due costole e della spalla. Nessuno dei presenti è intervenuto per placare la furia del ventenne che dopo l'aggressione ha tentato la fuga. È stato solo in quel momento che il ferito è riuscito ad allertare i carabinieri di Valle Castellana che grazie alle telecamere di videosorveglianza sono riusciti ad acciuffare il responsabile. Nei suoi confronti è immediatamente scattata la denuncia per lesioni aggravate. Il dottor Doroni invece se la caverà con una prognosi di 30 giorni. La vicenda riaccende le polemiche intorno alla sicurezza nei presidi sanitari. Non è la prima volta infatti che un operatore viene aggredito sul luogo di lavoro. Anche il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha espresso la solidarietà dell'intera giunta al medico ascolano sottolineando il ruolo fondamentale di professionisti che tanto sulla costa quanto nelle zone montane garantiscono alla comunità un servizio essenziale di assistenza. Veniamo alla politica interpellanza del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Francesco Taglieri sulla mancata applicazione della legge regionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Sentiamo. Sull'abbattimento delle barriere architettoniche solo promesse dalla regione. L'attacco arriva da Francesco Taglieri. Il capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle ha presentato un'interpellanza sulla mancata applicazione della legge regionale vigente in materia. L'interpellanza è rivolta al presidente Marsilio e all'assessore competente per conoscere dopo quattro anni e mezzo di giunta di centrodestra qual è la situazione in Abruzzo sul rispetto delle normative in tema di accessibilità. È imbarazzante la risposta che arriva oggi dal governo di regione Abruzzo. Sulle barriere architettoniche una legge del 2008 che non trova spazio e che utilizza una serie di condizionali che raccontano il disastro in una condizione assurda sui territori. Oggi di annunzi ci dice che abbiamo autobus e treni pronti a trasportare le persone da una fermata all'altra, da una pensina all'altra, ma che poi all'interno di quelli che sono i nostri comuni, i nostri centri storici, i nostri istituti, i nostri uffici non hanno la possibilità di muoversi. Piani e abbattimenti di barriere architettoniche che dovrebbero trovare le risorse della regione che li dà pioggia senza poi verificare e controllare quello che realmente accade. E' un tema che noi stressiamo da tempo, l'abbiamo stressato già attraverso una proposta di legge, attraverso mozioni e con questa tempelanza oggi chiediamo la verifica della condizione attuale di regione Abruzzo. E le risposte che arrivano purtroppo sono vergognose. Dal 2008 a oggi non è stato fatto nulla e questo governo alla fine della legislatura ha fatto ancora meno di quanto è stato fatto prima. Inseguì e filmò l'orsa bambina e il suo cucciolo 61enne che è finito nel registro degli indagati per maltrattamenti. La procura di Sulmona ha disposto il sequestro dell'auto e del telefono a suo carico. Rossella Luciani. Maltrattamento di animali e inosservanza del provvedimento del sindaco. Sono queste le ipotesi di reato che la procura della Repubblica di Sulmona contesta a un 61enne residente nella zona dell'Alto Sangro per aver inseguito e filmato l'orsa bambina lo scorso 27 giugno nel territorio comunale di Roccaraso. I carabinieri forestali con il supporto dei militari della stazione di Pesco Costanzo hanno dato esecuzione ad un decreto emesso dal procuratore capo Luciano D'Angelo procedendo al sequestro in via d'urgenza di un telefono cellulare e di un veicolo del 61enne presuntatore del filmato relativo all'inseguimento con l'autovettura di una femmina adulta di orso Bruno Marzicano con al seguito un cucciolo. Poco dopo la diffusione sui social network del video erano pervenute ai carabinieri forestali numerose segnalazioni di dissenso da parte dell'opinione pubblica, in particolare di associazioni animaliste che condannavano questa condotta come un episodio grave sia per l'incolumità delle persone sia per il benessere dell'orso. I militari avevano avviato nell'immediatezza delle mirate attività d'indagine visionando telecamere, ascoltando potenziali testimoni e riuscendo a raccogliere precisi indizi a carico del presunto autore che è stato deferito in procura. L'ordinanza sindacale dispone infatti il divieto di avvicinarsi ad esemplari di orso Bruno Marzicano a piedi, in auto e con qualsiasi mezzo a distanza inferiore di 300 metri. Tali comportamenti infatti possono determinare condizioni di stress con cambiamenti significativi delle condizioni fisiologiche del plantigrado potenzialmente idonei a causare pericoli per l'esemplare e per l'incolumità pubblica. Federica Rompicapo siede per la prima volta in Consiglio regionale accolta dal saluto del presidente Lorenzo Sospiri la politica teramana si aggiunge al gruppo Lega Abruzzo. Sentiamo. La prima volta che Atria legge un consigliere regionale femminile anche se la legislatura diciamo che è quasi al termine però cerchiamo comunque di rappresentare le istanze del territorio nel poco tempo che resta, nel migliore dei modi. Ho avuto l'onore anche di far parte del consiglio di amministrazione dell'ASP2 di Terra dove ho conosciuto i ragazzi di Rurabilandia che mi hanno lasciato veramente un segno indelebile ed oggi infatti la loro presenza in Consiglio regionale mi ha emozionato particolarmente. E chiudiamo con una notizia di sport la Lega Nazionale ha deciso di rinviare di una settimana l'inizio sia della Coppa Italia che del campionato così la Lega Nazionale di Serie D ha reso note le nuove date di inizio delle competizioni relativi alla nuova stagione. La Coppa Italia partirà il 27 agosto con il turno preliminare a seguire primo turno il 3 settembre mentre il campionato prenderà il via il 10 settembre. E per questa edizione è tutto vi ringraziamo della cortese attenzione vi auguriamo un buon proseguimento con i programmi sul canale 79 una buona serata.